Il circolo Canoa Catania vince la prima edizione del palio del molo di levante di Dragon Bot che si è disputato al porto di Catania. La squadra rossa-azzura guidata dal capitano Fabrizio Messina ed allenata da Tiziana Marletta, tecnico federale, conquista la medaglia d'oro nella categoria del misto, nell'open, nel femminile e nell'under 24. Ottima anche la prestazione dello sport club e ondina di Filippo Aversa. La kermessa sportiva è stata organizzata dal circolo Canoa Catania sotto legida dell'ASI Associazioni Sportive Sociali Italiane. Sentiamo Tiziana Marletta, allenatrice di questo circolo Canoa Catania che nel Dragon Bot sta raccogliendo ottimi risultati. Ci auguriamo che sia appunto di buon auspicio per organizzare una manifestazione nazionale di Dragon Bot proprio qui al porto di Catania. Ricordiamo che il Catania è l'unica squadra d'Italia ad avere due femminili a 20 completi e che il nostro femminile a 20 posti, queste sono le ragazze, è attualmente campione d'Italia 2022. Nella propria categoria, nello standard bot, sono fiera di tutti gli atleti che oggi sono intervenuti, degli atleti che da poco si sono avvicinati a questo sport e che oggi hanno gareggiato, di vicini di casa, di ogni che sono venuti a trovarci e poi una bellissima sorpresa per la prima volta oggi in gara il nostro equipaggio Under 24 grazie all'allenatrice della Canoa Polo che ha esortato i ragazzini a fare anche Dragon Bot.